Si può dire, carovana Rosa, esercenti arrabbiati neri? Arrabbiati neri? No, diciamo grigi, dai, comunque sì, siamo molto dispiaciuti. Marina Dolci, della Confesercenti e titolare dello storico negozio cittadino, cerca di smorzare o almeno contenere le polemiche. Tant'è che gli esercenti di Pescara, a differenza dello scorso anno, si sono sentiti esclusi dalle iniziative per il Giro d'Italia, che proprio nel capoluogo adriatico vede la presentazione delle squadre, la sfilata dei ciclisti e la grande festa in piazza Salotto. Non riescono a capire il mancato coinvolgimento quest'anno se si pensa che lo scorso anno si era costituito anche un comitato ad hoc per eventi e vetrine colorate di Rosa. Perché l'anno scorso c'è stato un impegno veramente altissimo da parte di tutti noi, con le vetrine, con i Facebook, con tutto quello che poteva essere. Quest'anno non c'è arrivata nessuna comunicazione. Non sappiamo se dipende dall'azienda che organizza il Giro d'Italia, che sarebbe la RCS, o anche dall'amministrazione. Non riusciamo a capire la pecca di chi è. Sicuramente, certo, le attività commerciali non sono state contattate quest'anno. Vediamo anche le strade, ad esempio Corso Umberto, Corso Vittorio, non sono allestite con le bandierine, ma solamente via Venezia e la Rivera, proprio dove passeranno le biciclette. Ma anche questa novità è una novità per noi, perché sapevamo della partenza dalla costa dei Trabocchi, se n'è tanto parlato, e poi ci troviamo con questo evento di due giorni, 4, 5, 6, ma veramente ci ha preso la sprovvista. Stesse perplessità espresse da Fabrizio Vianale di Confartigianato. Si tratta di un evento che darà visibilità alla città di Pescara, a livello mondiale, perché sono collegati anche da altri stati. Noi pensavamo di essere più partecipi con un centro di coordinamento, che avrebbe consentito sicuramente una maggiore pubblicità dell'evento. Abbiamo fatto vedere anche una targa risalente allo scorso anno. Sì, lo scorso anno infatti l'amministrazione ci ha donato una bellissima targa, il ricordo del coordinamento che è stato fatto. Probabilmente alcune priorità hanno portato a non coinvolgere le associazioni. Speriamo che non accada più. Lei parla di Movida, immagino. Sicuramente sì. Ma l'umore, insomma, strisciante tra i commercianti. Vincenzina De Santis, Confcommercio e titolare della storica gioielleria in centro a Pescara. Allora, l'anno scorso noi abbiamo partecipato con molto piacere e anche con molto sacrificio, mantenendo le nostre attività aperte anche durante la pausa pranzo. Abbiamo coinvolto quasi tutta la città del centro e anche oltre il centro con vetrine in rosa, palloncini. Tutto parlava in rosa, dalle vetrine agli aperitivi alle cene. Quest'anno non siamo stati contattati. Ma guarda, come evento è molto importante. Noi siamo una città turistica commerciale, più commerciale che turistica. Ci siamo rimasti male? Non sappiamo. Cioè, un coinvolgimento, forse qualcosina in più, la meritavamo.